Ragazzi bentornati a questo nuovissimo video, un'altra serata, un altro giorno, un altro giorno ragazzi Oggi è tornata un po' più assurda, non so se volete sentire la mia giornata ma... Perché se volete sentirla ve lo racconto perché... Andate oggi sono quei figli di puttana che in dieci minuti di video ne guardano uno Cioè a me va da fastidio perché se faccio dieci minuti di video E voi ne guardate una Magari vi perdete anche le cazzate che dico in quei nove minuti Cioè perché io ogni due minuti la cazzate la dico sempre Solo se la cazzate fa schifo sto lì a scuotere la testa A scuotere Eh sì a scuotere, a scuotere Come a scuotere in banca no? Sto mangiando perché... Lo faccio no Io questo lo chiamo pre-cena Prima di fare cena Io dieci minuti più la devo mangiare qualcosa In modo da mangiare poco a cena ragazzi È una dieta assurda però tocca farlo Ragazzi comunque bentornati a questo nuovissimo video E siamo tornati con gli FSK Poi hanno fatto la reaction del loro album Quindi potete trovare i video nel mio canale Senza che io vi dica un link di descrizione Link qua, link qua, link a Bukinamamato Andate nel mio canale Che ancora continuano a guardare solo un minuto del mio video Se non lo state dentro di un culo di notte C'è la parte 1, c'è la parte 2 Quindi guardate c'è la parte 1, la parte 2 Se non siete dei figli di puttana Che non siete ancora iscritti al mio canale Un figlio di puttana Che non... Già condividere no Non siete costretti dai Magari siete dei coglioni Se non condividete Un figlio di puttana ancora C'è un complimento per chi non condividete questo video Iscrivetevi al mio canale Lasciate un like Lasciate un commento La cosa di più importante Seguitevi su Instagram Se no siete avete la madre bonde Che altro posso dirvi? Andiamo subito a questo video E il video di oggi è Ti ho messo questo in bocca Poi vi dico che il video è Ecco Cosa si faccia? Sono le parti importanti Dove io mangio la parte importante Il video di oggi FSK Satellite 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 Greg Willian 10 per in California Io mi aspetta un pezzo indie Sicuramente Da un pezzo indie Ah non ho detto Il video ufficiale Cazzo Non c'è scritto Io non l'ho detto Scusate Doveva essere una canzone Che parla Delle loro vacanze In California Perché sai Cevano un video girato In mentre si godevano La vacanza Grande FSK 10X in California Nessuno vuole morire da solo Lei vuole i miei cash Sa che sarò una star Comprerò una villa Lei per la mia gang L'FSK È completa C'è chi urla C'è chi canta Fuori base E c'è chi C'è lui che Fa i pezzi C'è pezzi d'amore Se cadi Dopo FSK È il tuo cantone La satellite Satellite Ma perché viene a dire Satellite Satellite E basta Satellite Satellite E basta Una puttana Non ho mai rischiato Poco per niente Facevamo di tutto Come fosse normale Io Avrò il doppio Tutto per niente Per il suo buono Che fa i salari 10x Non mi faranno bene Nessuno vuole morire da solo Lei Assoluto sto video Sembra un video di Lipap Una canzone di Lipap Pet Non so come si dice Rap americano Rap Lipap Lipap Non so perché se non lo conoscete Non so Non so che canzoni ascolta La parola che non lo conosco Anch'io però Dalle storie di Da Instagram La Instagram sa anche quando Drake deve andare a cagare Quindi se non lo sapete voi Dai Continuiamo Il video sembra Sembra luce Lo stile Tutto Io ho mai scritto un pezzo Della Fsk Senza l'indin dentro Nell'album 12 pezzi Dove se non sentivi Lin Lin Non ero un pezzo Nell'Fsk Raga Una cosa assurda Sta cosa Dai Nel 2020 Se non dici Lin Lin Nell'Fsk Non puoi crepare Come dice Bello figo Sopo Sopo Bully 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 È vero Giusto Neanche Taxi B Di un lato In questo pezzo Raga Che assurda 2020 Nell'Fsk Basta Cambio Perché Non parla Dessa Vabbè Lo figo Che merda Ma perché c'ha un bacio Sulla faccia Non ho mai dato la mano Rets No 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 Questo finale è assurdo No 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 Questo no Questo è assurdo Lui che muore No 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 Guardatelo No Ci Credo È un finale Molto assurdo È un finale Di merda Perché Più la caniglia Non ho detto Che si tratta Una parola Di quelle che hanno detto Le loro canzoni Ho impegnato A mangiare A sparare Cagate Perché musicalmente Non so se Quella è la musica Cioè Però Dai Fsk Ti possono sorprendere In qualsiasi cosa Ho spaccato con quei tre canzoni La Poi Fsk Sono stati quelli che erano Dai Magari dom domani Mi aspetto Un'ansia No Due Un vaffanculo No Due Parlando musicalmente Di questa Fa cagare Come canzone Ovviamente 10x in California Non so Il titolo Parano delle loro vacanze Poi non so Sapo Bulli Che muore alla fine Poi si sveglia Sembra non stare neanche in piedi Aspetta Voglio finire Come finisce Sta canzone Poi ma è finita È finita bene Dai È un buon finale Dai Sapo Bulli Sapo Bulli È un fantasma Adesso Quindi c'è ancora Del Sapo Bulli Fate sicuro Che quello Non è Sapo Bulli È il suo fantasma Ma dopo Questo Ditemi voi Quella passata Di questa canzone Per me fa cagare Però figa anche come video Figa come roba Figa come FSK Figa come ogni cosa Dell FSK Figa da ascoltare Figa da commentare Quindi Musicalmente fa cagare Ma il resto è bello Dai Non so Non so cosa Non so cosa è bello Del resto Perché il resto Non so Bella come cosa Dai FSK Satellite 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 Non satellite Ragazzi Sono andato in franzi Non so cosa parlare Non so Non so cosa dire E scrivetemi Al mio canale Ci vedo un altro video E guardate Anche se nell'album Ci vedo un altro video Mua